carissimi amici del canale telegram dentro la notizia la nostra attenzione continua a essere focalizzata sull'eccesso di mortalità e sul comparto delle assicurazioni del ramo vita che possono fornirci dati più veritieri di quelli cosiddetti ufficiali talvolta scomparsi dalla scena altre volte manipolati più spesso sepolti sotto un mare di parole fuorvianti per cui oggi sono veramente felice di mostrarvi i dati del 90 per cento delle compagnie assicurative degli stati uniti preciso sono felice perché abbiamo finalmente un panorama che potremmo definire completo perché il 90 per cento delle compagnie non è come riportare i dati comunque significativi di una o due assicurazioni purtroppo invece questi dati ufficiali ci trasmettono una realtà che definire terrificante assai poco stiamo parlando di un picco di eccesso di mortalità del 200 per cento in una determinata fascia di età cosa finora mai detta né vista mesi fa un assicuratore è rimasto scioccato di fronte all'eccesso di mortalità del 40 per cento asserendo che mai si era vista una cosa del genere in tutta la storia degli stati uniti neanche in tempo di guerra come vi ho riportato a suo tempo ma ora emergono dati veramente da scenari apocalittici nel corso del video vedremo quale fascia di età è sorprendentemente maggiormente colpita e perché e noteremo l'innegabile nesso causale a questo punto la causa sarà chiara a tutti anche ai cosiddetti finti tonti o agli utili idioti interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di youtube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale telegram dentro la notizia iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 145 mila iscritti confermandoci così il primo media italiano di informazione su telegram per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo abbiamo bisogno del vostro sostegno se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su youtube e su telegram mettete un like attivate la campanella e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro roby